Villa Lago è il primo comune in Abruzzo a disporre di tutta la infrastrutturazione materiale ed immateriale necessaria alla salvaguardia dell'Orso Bruno Marsicano che continua in questi giorni a far parlare di sé. Le azioni volte a favorire un armonico e sostenibile rapporto fra l'uomo e l'orso, previste nel progetto interventi di conservazione dell'Orso Bruno nel territorio del comune di Villa Lago e della riserva naturale Lago di San Domenico finanziato dalla regione Abruzzo sono in via di completamento con il posizionamento degli ultimi secchi anti-orso per l'eliminazione dei numerosi cestini portarifiuti delocalizzati nell'area del Lago Pio al fine di eliminare tutte le fonti trofiche. Questo è un progetto finanziato dalla regione Abruzzo dalla vicepresidenza di Emanuele Imprudente con la legge 15 2016, un progetto ideato dalla coordinatrice delle riserve Silvia Di Paolo che è la quale ha progettato questi secchi anti-orso in ferro rinforzato affinché l'orso, il planticato non avesse la possibilità di accedere alle fonti trofiche distribuite nel perimetro del territorio di Villa Lago. Questo è il primo esempio di realizzazione altri ne seguiranno delocalizzati sul territorio di Villa Lago affinché non ci sia la possibilità dell'orso confidente di assumere ancora una maggiore confidenza e quindi di trasferirsi in loco per approvigionarsi nel momento in cui non trova cibo nei territori di competenza e dove generalmente staziona. È un progetto importante perché insieme alla cartellonistica stradale, all'educazione ambientale, un centro informazione, ai pannelli informativi su come comportarsi in caso di incontri con la fauna selvatica, costituisce il primo vero esempio di comune a misura d'orso, a misura d'orso ed a misura d'uomo. Vale la pena specificare che la cittadinanza di Villa Lago, da sempre abituata agli incontri ravvicinati con la fauna selvatica, è profondamente educata, responsabile, sensibile e che quindi non ci sono stati incroci cosiddetti pericolosi, ma l'infrastrutturazione materiale e immateriale a corredo della progettualità certifica la capacità di dare corso ad un programma ed un piano organico di intervento finalizzato alla salvaguardia, alla tutela a 360 gradi. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gatta ha poi collaborato per la realizzazione impegnandosi ad investire altre somme affinché ci possa essere una piena copertura dell'intero territorio comunale. Possiamo dire finalmente che il primo comune d'Abruzzo a infrastrutturazione totale ha raggiunto il suo obiettivo, un obiettivo che un'associazione con l'ambiente vita delinea come fondamentale.